Grazie a tutti. 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 Quindi quando non sto lavorando faccio l'input, per cui come adesso vado in Italia, faccio varie esperienze diverse, così ho la possibilità di avere tante ispirazioni, guardo i film e cose del genere. Grazie all'anime le vendite del manga sono aumentate e il manga è diventato un hit, però in Giappone il DVD non ha venduto a livelli da hit. Quindi diciamo che ha più successo il manga che l'anime di Butuma. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.